Olos Pack Delizia di Riso I prodotti Delizia di Riso sono arricchiti con i più preziosi oli estratti dal riso. Il pack è formato da bagno crema addolcente in formato da 250 ml che deterge perfettamente la pelle sotto la doccia. Poi abbiamo la crema fondente Delizia di Riso e l'olio Delizia di Riso. La crema a differenza dell'olio è arricchita con dei microgranuli che vanno massaggiati sulla pelle e ne revitano la superficie idratandola in profondità. Vi consigliamo l'utilizzo della crema due o tre volte a settimana. L'olio invece va applicato sulla pelle anche bagnata per un utilizzo e un'idratazione veloce tutti i giorni.